La proposta del sindaco Ghinelli sugli ospedali da campo? In questo momento è un'ipotesi non all'ordine del giorno e poi è una valutazione che è rimessa alla protezione civile regionale. Il direttore dell'Asla Toscana Sud-Est era stato chiaro sin da subito sulla proposta del sindaco di Arezzo in merito agli ospedali da campo e al recupero di vecchi presidi per accogliere malati contagiati da Covid. Un progetto portato avanti dal primo cittadino e dal vice sindaco con delega alla sanità Lucia Tanti che non piace però all'Asla Toscana Sud-Est e che adesso a chiare lettere ha detto che non lo metterà in pratica. Per l'azienda sanitaria infatti non sarebbe il caso di creare tende o capannoni con file di letti, una soluzione ritenuta molto semplicistica. Il direttore generale è poi entrato anche nel merito del tipo di cura alla quale viene sottoposto un paziente Covid che richiede strutture adeguate così come personale qualificato. Lo stesso Durso ha poi ricordato al sindaco che in tutta l'area bassa i posti letto dedicati ai pazienti Covid raggiungono il 15%, una percentuale dunque relativamente bassa e che non penalizza eccessivamente i malati di altre patologie. Il direttore generale è poi intervenuto anche sul tema dei 40 dipendenti comunali che si sono resi disponibili per il tracciamento dei dati dei contatti diretti. Anche in questo caso Durso ringrazia ma declina l'invito in quanto ritiene che per ottenere concreti risultati occorra personale sanitario adeguatamente preparato. Sulla questione poi è intervenuto anche il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Giovanni Grasso, che dopo l'acceso scambio di opinioni tra sindaco e direttore generale chiede che i toni vengano abbassati. Chi ha competenze e ruoli in materia sanitaria ha i propri compiti da svolgere e non può essere sostituito, pur con tutta la buona volontà e le migliori intenzioni, da chi queste competenze non le ha, ha affermato Grasso. Per quanto riguarda poi l'organizzazione ospedaliera, mi ero già espresso dicendo che gli ospedali devono essere presidi di servizi e non bandierine e questo vale anche per quelli da campo. Il problema emergenziale non è quello delle strutture, ma quello dei professionisti che le facciano funzionare e che sono tuttora insufficienti. Invito quindi Durso e Ghinelli a sedersi ad un tavolo assieme ai rappresentanti degli ordini e delle professioni sanitarie e a ragionare sugli scenari attuali e futuri e sulle soluzioni migliori da mettere in atto, ha concluso Giovanni Grasso.